83 giorni dietro le sbarre, 4 ordini di custodia cautelare, 10 anni di processo, danni psicologici, economici e sociali e poi la soluzione piena, un'odissea. Tony Lattanzi, leader di Alleanza Nazionale di Martinsicuro, accusato ingiustamente di tentata concussione ed abuso d'ufficio nel 2002 quando era assessore, oggi torna in politica e si presenta alla Regione Abruzzo come candidato nella lista di azione politica a sostegno di Marsiglio Presidente. Mi sono gettato in questa avventura per alcuni punti che ritengo fondamentali da portare avanti. Innanzitutto il problema che tutti quanti conosciamo è che tipo di acqua arriva nelle nostre case, che acqua bevono i miei figli, che acqua bevo io, perché dopo le notizie passate degli sversamenti all'interno delle tubature dell'Acquerotto e Ruzzo io voglio vederci chiaro. Ma altri punti per me sono fondamentali, quello che d'altronde è il volano della nostra regione, della nostra costa più che altro, ma anche dell'interno, che è il turismo. Un altro punto in particolare tra quelli che vorrò sviscerare è un discorso che riguarda le associazioni sportive e direttantistiche. Io da anni sono dentro una società sportiva, indipendentemente da quale sport, e vedo che tutte le società fanno fatica a mantenersi da un punto di vista economico. Però se andiamo a vedere l'aspetto sociale di ciò che fanno le associazioni sportive e direttantistiche, c'è bisogno veramente di dargli un contributo notevole. Penso di poter elaborare una legge che dà dei contributi a quelle società sportive e direttantistiche che hanno nei loro iscritti un numero al minimo di alcuni ragazzi, che vadano dai 4-5 anni fino ai 14 anni. Io torno in politica dopo che sono stato in lista 21 anni fa, anzi 22 anni fa, nel 1997. Ho fatto l'assessore fino al 2002 e poi purtroppo una disavventura giudiziaria, un errore giudiziario, mi ha praticamente estromesso dal lagone politico. Io torno perché sento che la gente vuole che torni in politica, ma più che altro sento che la mia famiglia è pronta a riaffiancarsi a me, come mi è stata a fianco in quei drammatici momenti, e iniziare questa nuova avventura da consigliere regionale.